buongiorno a tutti oggi sperimenteremo insieme una modalità di allenamento tattico che è la raffica di problemi ovvero il puzzle rush su chess.com e devo dire che non l'avevo mai provato o meglio questo metodo di allenamento me l'ha consigliato christian e l'avevo provato con lui in alcuni video che non vedranno mai la luce perché per un errore tecnico non si sono salvati quindi l'ho provato cinque minuti con christian e ora non l'ho mai provato soltanto ho soltanto questo problema davanti per provare a configurare appunto il video dove qua c'è cosa succederà io inizierò farò clic sul pulsante nuova raffica o gioca di nuovo lo so e avrò cinque minuti che dovrò risolvere il massimo numero di problemi ora mi sembra non so se con gli errori che non l'ho mai provato quindi non so come funziona non so se con gli errori si riazzera o sottraggono dei punti o se gli errori non contano comunque servirà e servirà appunto una velocità incredibile una velocità incredibile e perché l'idea è risolvere tanti problemi allora sapete che c'è nelle partite a tempo lungo c'è tanto tempo però per nelle lampo no bisogna calcolare in modo veloce e anche nelle partite a tempo lungo nelle partite classiche quando si va nel cosiddetto Zeitnot ovvero a corto di tempo bisogna calcolare in modo velocissimo quindi adesso proviamo vediamo se va tutto bene riusciamo a farne qualcuno non so bene non so bene quanto tempo cioè quanti problemi bisognerebbe risolvere normalmente mi sa che quando ho visto velocemente sul computer di Christian così prima di capire bene come funzionasse fosse difficile farne 20 addirittura proviamo a porreci oggi l'obiettivo di farne 30 vediamo se lo superiamo non so esattamente quanto è normale farne proviamo a vedere cosa succede proviamo a farne il maggior numero possibile bene ok quando siamo pronti 3 2 1 via nuova raffica 5 minuti 3 2 1 via ok matto ok qua matto matto del corridoio tutti matto del corridoio per ora e qua matto del corridoio e qua dovremmo dare matto in poche torre b1 ora parirà tutti gli scacchi poi matto ok matto in una siamo a 6 qua matto del corridoio ok il mouse lento qua cambiamo le torri poi dovremmo vincere il finale di pedoni se non sbaglio donna perché non mi promuove donna automatico che ora dovremmo guadagnare un pezzo dovrebbe essere sufficiente a vincere ok ora giochiamo donna per c3 poi dovremmo dare matto matto ok ora qua dovremmo dare matto in poche ok ora cosa facciamo qua se sacrifichiamo qua dovremmo vincere dovremmo prendere la donna e dovremmo avere un vantaggio decisivo ok questa posizione che non ho ancora fatto in tempo a vederla che come si vince qua qua non posso neanche fermarmi tanto forse donna per f4 lo prende in h7 ok non c'è tempo le donna per f4 prende in h7 è grave no non è grave per l'altro prende in h7 non succede nulla ok cavallo g3 matto ok ne abbiamo 14 ora scappo e matto ok presa e poi matto in f8 ok ora cosa facciamo torre h7 dovrebbe vincere penso ok ora g4 non dovrebbe riuscire a tenere tutti i pezzi difese abbiamo guadagnato un pezzo ok come si gioca qua qua cavallo per f5 doppio qua dovremmo vincere ok qua dovremmo dare matto così matto ok donna per d4 dovremmo guadagnare un pezzo siamo a 20 t5 ci sta dando matto prendiamo la torre con scacco e dovremmo vincere no ora cavallo f5 pariamo tutto dovremmo vincere ok qua cosa facciamo su g per h possiamo fare g per h3 g per h3 re per e3 dobbiamo promuovere i primi donna e vinciamo la posizione ok se prendiamo che non lo so bene se prendiamo in c7 non vinciamo ora pariamo lo scappo dovremmo vincere se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco allora vieniti a trovare all'interno dell'accademia di matto scacco ok andiamo da rematto e d3 se cattura questo dovrebbe vincere no e ora torre c2 e d2 poi vinciamo e promuoviamo ok ora come si vince re per d4 re 4 d4 d3 ora d2 dovrebbe vincere andiamo donna prima di lui che ora donna e8 poi dovremmo dare qualche matto se non sbaglio ora cavallo e vediamo donna donna f ah no no c'è il pedone inchiodato non ho visto manca poco allora cavallo g4 re qui che lento donna f8 re h5 e come vediamo cavallo g4 re h5 donna per h7 re cavallo che ha inchiodato il pedone g f7 re h5 non abbiamo matto vediamo il cavallo g4 re giusto forse dovevo sacrificare questo questo esercizio muovere veloce vediamo se è sufficiente questo ora ah bisognava fare scacco per pedio io pensavo che bisognasse vincere ok qua chi va chi va da ok il nero dove va i pedoni bianchi ah io pensavo che la torre fosse attaccata non lo è ora diamo scacco pensavo che promuovesse a donne invece no ora andiamo qua e ora cosa facciamo andiamo qua andiamo scacco non c'è tempo ok proviamo a dare scacco non so se è corretto ora diamo ora catturiamo la torre dovremmo vincere che ha perso tantissimo tempo dove vanno i pedoni chi vanno da questa parte giochiamo f2 e poi qua giochiamo torre per f2 se catturare f3 ok è difficile queste posizioni ora non ho tempo vediamo se riusciamo a farne 30 ora non so cosa bisogna fare qua prendiamo ora giochiamo non so alfiere c4 scorretto ok giochiamo facciamo cavallo e7 guadagniamo materiale vinciamo 29 secondi penso che non riusciamo a raggiungere l'obiettivo oggi mi sa che qua prendere ok non ho avuto tempo di giocare il cavallo grafica terminata vediamo cosa ha detto più lunga delle soluzioni più problema più difficile 1680 va bene qua avevo cavallo f4 con l'idea cavallo h3 e che non qua purtroppo non c'è stato tempo di risolvere questo problema comunque è molto interessante questa modalità di allenamento molto interessante e diciamo che non so bene se è tanto poco 29 che non avevo idea di come funzionasse però ora che abbiamo più o meno capito in un futuro adesso proverò ad allenarmi proverò ad allenarmi e una volta accelerato appunto il calcolo proverò a risolverli in modo più veloce e io vi consiglio ma vi consiglio proprio per migliorare il vostro gioco soprattutto il vostro gioco bullet o il vostro gioco blitz di risolvere tanti di questi problemi e adesso spero quindi di riprovare presto di provare a fare qualche record almeno qualche record rispetto 29 perché non bisogna cercare di il primo avversario siamo noi stessi no i per ci sarà sempre qualcuno di migliore a scacchi se non è una persona sarà un motore c'è sempre qualcuno che gioca meglio quindi cerchiamo di essere meglio di quanto di ciò che eravamo noi stessi ieri quindi speriamo domani di riuscire a fare 30 problemi e spero che voi iniziate non so se ne farete di meno di più se ne farete se spero che chi riesce a fare 10 problemi tra una settimana riesca a farne 15 chi ne faccia già 40 poi tra una settimana riesca a farne 45 e tutti miglioriamo tatticamente e se conoscete altri modi di allenarsi interessanti fatemeli sapere questo l'ho conosciuto grazie a cristian se avete altre idee sarà molto utile per me saperle grazie e a presto e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni